Tra guardie e ladri preferisco le guardie. Un tempo dicevi che sono una persona di destra che è ospitato in modo improprio dalla sinistra. Vero, confermo. Continui a considerarti una persona di destra? Certo, per le cose in cui credo sono molto più vicino alle posizioni che in un paese normale rappresenterebbe la destra. Naturalmente siamo un paese, un manicomio e quindi è tutto falsato. Chi è più vicino a Montanelli?